Sono parole durissime quelle di Flavio Vocaturo del Partito Democratico e di Marco Possanzini di Sinistra Italiana in merito alla mancata gestione del Parco della Madonnetta da parte del Campidoglio. Da cinque lunghissimi anni l'area verde è tornata nella piena disponibilità dell'amministrazione, scrivono in una nota. In questo arco di tempo sono avvenuti atti vandalici, devastazioni e innumerevoli incendi dolosi. Questi gravissimi episodi non hanno destato l'amministrazione, che è rimasta con gli occhi chiusi e le mani in tasca, ignorando le proteste dei residenti. Poi, in prossimità della scadenza del mandato elettorale, coloro che dovevano tutelare il Parco sono tornati sul luogo del delitto, riproponendo le stesse identiche promesse di cinque anni prima, come se nulla fosse. Non basta, nell'autunno 2020 viene pubblicata una manifestazione di interesse, leggendo i termini della consultazione preliminare emerge con chiarezza che il Comune di Roma non è impegnato in alcun modo nell'esito finale. Allora ci chiediamo con quale titolo il consigliere capitolino Paolo Ferrara dice sui social che verranno esaminati 16 progetti e scelti milioni. Nessuno decide nulla perché deve essere promosso uno specifico bando ed evidenza pubblica, concludono Vocaturo e Possanzini.